30 luci sono tutte accese? si corrati la pena vedi che sta panna lo schiacci si 20 15 vai 5 5 4 3 2 1 vai 400 mettine 2 500 mettine 4 500 mettine 4 veloce in mezzo 300 tornante destro scivola per sinistra lunga buono 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 per destra vai in sopraelevata 500 500 mettine 2 300 mettine 4 200 200 ritarda mettine stretto jump 200 tornante destro per tornante sinistro 50 50 pettine da 2 300 pettine da 3 va in prima variante va in prima variante via sono stai a sinistra per pettine 2 vai a roggia normale no gincana roggia normale no gincana l'esbo 1 normale no pettine no pettine l'esbo 1 normale l'esbo 2 normale 200 200 pettine da 3 a scari normale dai gas 200 stacca dopo il ponte stacca dopo il ponte mettine veloce 300 parabolica entra forte per sinistra stai a sinistra pettine da 2 200 tornante destro per tornante sinistro 50 pettine da 2 300 pettine da 3 vai prima variante vai prima variante di assono stai a sinistra per pettine da 2 vai alla roggia normale roggia normale no gincana bella 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 l'esbo 1 normale no pettine no pettine l'esbo 2 normale l'esbo 2 normale 200 pettine da 3 a scari normale dai gas a scari normale dai gas 200 stacca dopo il ponte pettine veloce 300 parabolica entra forte per sinistra pettine da 2 200 tornate destro per tornate sinistro 50 pettine da 2 300 pettine da 3 vai prima variante di assono stai a sinistra per pettine da 2 vai alla roggia normale roggia normale no gincana l'esbo 1 normale no pettine no pettine l'esbo 2 normale 200 200 pettine da 3 a scari normale dai dai gas 200 stacca dopo il ponte pettine veloce 300 parabolica parabolica entra forte parabolica entra forte per pettine da 2 per pettine da 3 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 50, pettine da 2, 300, pettine da 3, vai, prima variante. Via sono, stai a sinistra per pettine. Vai, roggia normale, no ginkana, roggia normale, no ginkana. L'esbo 1 normale, no pettine, l'esbo 1 normale. L'esbo 2 normale, 200, pettine da 3. Vai, Nascari, normale, dai del gas. 200, stacca dopo il ponte, pettine veloce. 300, parabolica entra forte, parabolica entra forte. 200, pettine da 3. 200, pettine da 3. 300, pettine da 3. 300, pettine da 3. Vai, prima variante. Bella, bella, bella. Via sono, stai a sinistra per pettine 2. 2. Vai, roggia normale, roggia normale. l'esbo 1 normale, no pettine. L'esbo 1 normale, no pettine. L'esbo 2 normale. 200, 200, pettine da 3. 200, pettine da 3. 2. 5. 2. 5. 6. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Veloce 300 Parabolica Entra forte Parabolica Entra forte Poi resetta ancora Pressione olio bassa 250 Pettine da 2 300 Pettine da 3 Ma in prima variante Pia sono Stai a sinistra Per Pettine da 2 No c'ho la gomma Vai Rogia normale No cincana Rogia normale No cincana L'esmo 1 Normale No Pettine 200 200 Pettine da 3 Ascari Normale Gas 200 Stacca dopo il ponte Pettine veloce 300 300 Parabolica Entra forte Corra Corra Tristo Curvoni veloce 200 Tornante destro Per Tornante sinistro 50 50 Pettine da 2 L'ultimo E poi Usciamo 300 Pettine da 3 Vai prima variante Via sono Stai a sinistra Per Pettine da 2 Vai alla Rogia normale No cincana Rogia normale No cincana L'esmo 1 Normale No pettine L'esmo 1 Normale L'esmo 2 Normale 200 Pettine da 3 A scari Normale Dai del gas 200 Stacca dopo il ponte Stacca dopo il ponte Pettine veloce 300 Parabolica Entra Forte Per Pettine da 2 Usciamo 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 200 200 Tornante destro Per tornante sinistro Fine prova Bravo Bravo Temo Grazie a tutti.